E' bello a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovissimo video, sono Tony Rosa Nero e sono qui ragazzi pronto per mostrarvi il nuovo veivolo che è uscito oggi Si tratta del nuovo, lo trovate qui su Elitas Travel e si chiama il Seabridge ragazzi, costa 1.130.500 dollari, col prezzo giusto si può comprare ragazzi a 850.000 dollari con l'incarico di aerei Io ne approfitterei di questa offerta che per ora ci sono sconti e altro sui veivoli ragazzi, soprattutto quelli di Halloween ragazzi E detto questo ragazzi andiamo a modificare il nuovo veivolo, eccolo qua Ringrazio prima di tutto il mio amico Francesco Ammazio che mi spotta sempre i veivoli o meglio ancora i veicoli che devono uscire su GTA 5 online E detto questo modifichiamo questa bellezza Allora mettiamo armatura Contromisure, mettiamo le contromisure, mettiamo le Mettiamo questo, il flare Poi il motore Poi manovrabilità da gara Poi la livrea La livrea è molto importante Ora vediamo cosa Wow, bella è questa Molto chic Questo sembra il più costoso però Modestamente solo colore giallo Non mi piace Allora ragazzi mettiamo quella rossa Marina rossa E mettiamo venniciatura principale E mettiamo Vediamo Che colore ci può stare Sopra questi colori Ci può stare un bel colore Ma lo mettiamo giallo racing? Ma sì ci può stare Poi d'altro canto c'è pure Dove c'è l'elica Eppure gialla Se non verde ragazzi ditemelo qui sotto nei commenti Poi il pellescente Mettiamo un bel pellescente acceso Mettiamo giallo montano Poi il colore secondario Vediamo Ah sarebbe Dove c'è L'elica Eh Mettiamo io la pure giallo Eccolo Ah già c'è Ok Poi Le armi La cosa più importante Questo veicolo ragazzi L'abbiamo provato In una missione Del Delle scolte E ci sono Le bombe Io nel mio caso Metto le bombe a grappolo Però Questo ve lo faccio decidere a voi Quale ci può stare come Bombe Poi E poi Ci manca Le mitragliatrici Prezzo Al prezzo Di 195 mila dollari Ma Non è che ci vale un granché Però E direi che Abbiamo finito Ora Usciamo dall'hangar Con il nostro Veicolo E andiamola a provare Vediamo un poco Direi che Con le modifiche Ragazzi E' diventato Ancora più veloce Oltre al fatto che Era lento Quando L'abbiamo provato Non male Direi che Manovrabilità Eppure è buona Ragazzi Non so voi Ma Sembra Molto Vediamo se Ha Direi che Eppure è buono Come Direi che Eppure Proviamo Le bombe Ragazzi Direi che Direi che Siamo troppo in alto Vediamo un po' Eh Ah Direi che Eppure è buono Come bombe Ragazzi Non so voi Ma Ragazzi Non so voi Ma questo Velevole Mi sembra Abbastanza Buono Spero che Vi piaccia A voi Non vi perdete Poi il video Che caricherà Il mio amico Più caro Zeta Willips Che poi ve lo metterò Qua sotto In descrizione Anzi Se ci volete passare Lo trovate qua sotto In descrizione Passate pure Nel mio Nel Nel mio amico Andri Che mi fa sempre Le intro Più belle Ragazzi E non so voi Spero che questo Video Vi sia piaciuto Lasciate tanti bei like Un commento Iscrivetevi al canale Allidiamo a 20 like Ragazzi Per questo nuovo Veivolo E niente Da qui Tonio Rosanella È tutto Noi ci vediamo A un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti